cosa succede ragazzi, benvenuti tornati al mio canale, nel video di oggi parleremo del controllo di peste per il vostro luogo e quale prodotto sarò usare oggi e perché, restate attenti. Ok ragazzi, quindi sul desk qui ho due prodotti, l'uno è il Pectraside Triazine Insect Killer per il luogo di luogo, è un concentrato, quindi dovrai mixare un spray spray e poi sprayare il vostro luogo o abbiamo l'altra soluzione di over-the-counter che è BioAdvance, il completo Insecti Killer, che è pronta per sprayare, questo e in realtà ho comprato questo su Amazon, magari 15 giorni fa era a vendita, credo era 10 dollari o qualcosa sulle linee. Per il video di oggi ho usato la soluzione pronta per sprayare e c'è un semplice per il quale ho usato questo. Ho usato questo perché la differenza tra questo e questo è che questo sarà rinforzato dopo un'ora di applicazione. Ho guardato il mio l'ora di acquistare e ho aspettato l'uomo durante questa mattina, questa mattina, quindi ho portato con questo. Dice che questo è sul label, è scritto che ho bisogno di aspettare almeno 24 ore prima di muo e di acquistare il mio luogo. Basicamente questo è il motivo per cui ho usato questo. l'ora di acquistare per applicare questo prodotto è uccidere uomini, uccidere 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 ho notato durante l'avvento molti uccidere uccidere qui e anche per grubi, anche se non ho visto molte attività uccidere nel mio luogo da qui. un'ottima notte qui che volevo fare. Questo è il motivo che sempre dobbiamo leggere il label per fare la migliore decisione per considerare quello che dovremmo usare come prodotto e gli altri fattori esterni. Se avessi leggere il label non sapevo che il prodotto bio-advance sarà vero dopo un'ora e quindi probabilmente avessi usato il concentrato e poi la notte avessi regolato e l'effetto avessi già desaparegato. L'altra differenza tra i due prodotti che è un po' interessante è che questo può essere usato solo sul luogo e nelle fasi della tua casa invece l'aspetto spectra puoi anche usare sui vegetali ovviamente bisogna aspettare diversi giorni tra il spray del prodotto e l'aspetto e tutto è scritto sul label quindi la notte numero uno e la prima delle cose che devi fare ogni volta che spruisci o compri un prodotto è leggere il label quindi prima di applicare il prodotto ho dato un po' più sul luogo senza più fare lasciamo attaccare il bioadvance al luogo e lasciamo spray c'è un pin qui che dobbiamo rilassare il tp quindi lo metterò in place poi bisogna rilassare prima l'uso il prodotto dice che cove 5.000 sq. ft e questo è 5.334 sq. ft preside come il farmacista l'ingrediente attivo di questo prodotto lo metterò qui e se trovo il label lo metterò lo metterò anche cosa mi piace di questo bottone è questo on e off button sembra molto più meglio che quello che ho usato ora con torno il back che hanno questo pin qui è sempre difficile mettere quando vuoi switch off the bottle in questo modo puoi switch off the bottle facilmente let's get the action going well i'm able to switch on the water so at first impression one of the things i really like is this on off button on this bottle and once you actually you are starting to spray you don't need to keep the button on but it will remain on until you will switch back off so the area that we have just finished to treat it's approximately a thousand square feet as you can see this is the level of the of the bottle right now so uh i believe that pretty much yes it's what is written here it's correct they will treat up to five five thousand square feet as always thank you for watching subscribe to my channel leave me a comment below see you to the next video thank you so you you